Ieri pomeriggio, nella Sala dei Comuni del Palazzo della Provincia d'Imperia, si è tenuta un'assemblea di ANCI, l'Associazione dei Comuni della Liguria, per affrontare con i sindaci dell'Imperiese il problema della gestione dei nuovi flussi di migranti richiedenti asilo. L'incontro è stato organizzato in vista dell'Assemblea regionale in programma il 27 febbraio a Genova. Il direttore generale di ANCI, Pierluigi Vinai, ed il coordinatore della Commissione Migranti, Paolo Pezzana, sindaco di Sori, hanno illustrato la proposta di ANCI, volta a limitare a 6.000 il numero totale dei migranti da accogliere ancora in Liguria. Di questi, tra gli 800 e i 900 dovrebbero venire nell'Imperiese. Resta però l'incognita legata alle decisioni che saranno assunte dal Ministero. Infatti, se gli sbarchi, come è probabile, dovessero continuare, i numeri sarebbero inevitabilmente destinati a crescere. Tra l'altro, non tutti i sindaci sembrano disposti a trovare un accordo in Assemblea. C'è infatti chi preferirebbe che fossero i prefetti, come accaduto fino ad oggi. Sempre nel corso dell'incontro di ieri, è emerso che al momento l'Imperiese non è interessato da nuovi arrivi, in quanto viene tenuta in considerazione particolare la situazione di Ventimiglia, ma le cose potrebbero presto cambiare. A Genova e Savona, infatti, i prefetti hanno già contattato alcuni sindaci per cercare nuove sedi di accoglienza. Una situazione in divenire che non smette di preoccupare.